Carlo Alberto continua a rivelare sui social il suo sentimento forte per la bella Nicole, dicendo che la ragazza è eccezionale non solo fuori ma soprattutto dentro. Intanto lei, la bella romana, è andata in discoteca a ballare con le sue amiche, disinteressandosi delle lacrime versate di Carlo proprio per lei, che intanto festeggia con le sue amiche la rottura di questo amore che forse non è mai esistito. Dopo il discorso di Carlo Alberto in diretta dove piangeva per la sua Nicole, tanti personaggi famosi e non famosi hanno risposto tra cui proprio un altro corteggiatore di Nicole, Oristian, che ha detto se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi. Anche il cugino di Nicole, Marco, attacca Carlo Alberto dicendo che un ragazzo che soffre per la fine di una storia d'amore non fa subito una diretta sui social, ma si mette seduto e riflette su quello che è successo. Insomma, non basta soffrire per la fine di un amore, ma bisogna sentire anche i pareri e le critiche di altre persone. Povero Carlo Alberto! E pensate che lui ci teneva poi tanto a questo amore, ma solo lui purtroppo. E questo ovviamente fa molto male, fa veramente male.